Cacchio stracacchio, ciao a tutti ragazzi, sono io Peter Griffin e sono qui per spiegarvi come funziona questo canale, dove potrete trovare per lo più 3 tipi di contenuti. Numero 1, ma si ha polipo originali? Non si è molto da dire, è abbastanza autoesplicativo. Eccovi un esempio. Numero 2, ma siamo più generati da reinvigili selezionati attentamente. Per più informazioni legate alla descrizione del video. Cribbio! Che cosa sta succedendo? Sta cambiando il mondo! Ormai da fare! Numero 3, dena i corni e sottogeneri improbabili che costano se lo fatica ma fanno modellatamente ridere. presto presto parliamo di Gesù, parliamo di Gesù, parliamo sì parliamo, è l'importante parlare di Gesù, quando ti ama sai ti chiama, presto presto parliamo di Gesù, parliamo di Gesù. In oltre ogni tanto troverete qualcosa sul canale di Silvio Banner, quindi date un'occhiata anche lì, non è vero Cavalier? Mi consenta di dire che è proprio così caro Peter? Adesso scusa ma devo scappare che devo scendere in campo a casa di quel maier a sbrigare una bella faccenda con lui, e vai? Chi altri se non Silvio? Silvio, 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 Silvio. Nel caso ci è stata aggiunta una nuova rubrica di video controllate tra le playlist del canale, vi troverete tutto il necessario. Beh il video è finito, questo è tutto. Buon proseguimento, ricordate iscrivetevi, mettete like e attivate la campanellina per non perdere nemmeno una giornata. ABI! 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 Grazie a tutti.